ciao ragazzi sono flaco mi trovo in casa e volevo sapere un po come va dalle vostre parti perché qui a lecce la nostra quarantena procede in modo fantastico devo dire che mi sta piacendo anche restare in casa anche perché me la sto passando abbastanza bene tra computer tv ogni tanto anche la playstation insomma mi sto divertendo abbastanza me la sto passando veramente bene mi piacerebbe sapere anche da voi come va questa quarantena anche perché la nostra anzi la mia e di ambra alessia si sta comportando molto bene non rompe le scatole soprattutto perché penso che molti di voi magari anche la vostra moglie rompa un po le scatole vedendoci sempre a casa però niente per quanto mi riguarda le cose procedono abbastanza bene è vero io